In questo capitolo parleremo di un altro gruppo di vetri naturali, in realtà un gruppo abbastanza piccolo, però molto interessante e soprattutto è importante dal punto di vista della gemologia, perché alcuni di questi materiali sono materiali da taglio. Le tectiti. Come abbiamo visto, i vetri naturali si dividono nei vetri vulcanici, di cui le ossidiane sono i principali esponenti che abbiamo visto nel capitolo precedente, le fulgorite che si formano per la caduta dei fulmini e i vetri di impatto meteorico. I vetri di impatto meteorico si dividono in impattiti, che sono dei materiali spugnosi, vescicolati, che si trovano in genere all'interno del cratere o comunque nelle prossimità del cratere, o altri materiali con strutture diverse, però comunque con delle evidenti strutture di impatto, da shock sia termico che di pressione, e le tectiti, che sono invece dei piccoli corpi che hanno viaggiato nell'atmosfera, prendendo una forma aerodinamica, e sono costituiti di un vetro generalmente molto buono, molto compatto, che si usa per tagliare delle gemme. Ecco, quindi assieme alle ossidiane sono gli unici vetri di impatto meteorico che ci interessano per questo nostro lavoro. Ecco, le tectite sono poche, sono un evento molto raro, e soprattutto, come abbiamo visto anche per le ossidiane, si preservano solo i materiali recenti. Quindi, la tectite più antica è questa che si trova fra il Texas e la Georgia, che è datata a 35 milioni di anni, quindi tutti gli eventi conosciuti sono eventi recenti, e nei sedimenti antichi non esistono tectiti, eventualmente si possono trovare delle micro tectiti, ma non degli oggetti belli e interessanti da studiare come questi. Qui ci sono elencate le quattro principali cadute che hanno dato delle tectite di grandi dimensioni, ce n'è una quinta, di cui non ero campione, che è la tectite della Costa d'Avorio, ma è molto rara, molto cara, la maggior parte del materiale è stato trovato in mare. Ecco, qui nella mappa ho situato i crateri di impatto e i campi delle tectite, cioè le zone dove si trovano queste tectite. Vediamo che se l'impatto è questa macchia verde, le moldavite, che è un tipo di tectite tipico della Cicoslovacchia, si trovano appunto in Cicoslovacchia, ma il cratere sta in Germania. Questo già mi dice che la direzione dell'impatto veniva da ovest verso est e la caduta del corpo celeste mi ha fatto fondere delle porzioni del cratere che sono state schizzate in questa direzione e si sono accumulate in una zona ristretta. Quindi è un fenomeno locale rispetto alla caduta. Il secondo impatto più conosciuto e più famoso è quello del vetro libico, che è un materiale giallo, suscettibile di taglio, anche questo. La moldavite è verde, anche questo è tagliabile, mentre le altre due sono la mediasite, quella americana e l'australasite, si trova in Indocina, Indonesia e Australia ed è nera. Quindi le uniche due tagliabili sono il vetro libico e la moldavite, e come dicevo il vetro libico si trova nel deserto libico che sta in realtà in Egitto, nel deserto libico, e il cratere sta a confine con la Libia e anche questo viene da ovest. Invece l'australasite, che è l'impatto più famoso, più conosciuto, più impressionante, ha un cratere probabilmente in questa zona fra il sud della Cina e il Vietnam, e si è distribuito in una zona vastissima che copre tutta l'oceania e le isole dell'Indonesia e delle Filippine. Mentre l'impatto che ha dato le media city è un impatto con volumi minori implicati e si trova in due piccole località nel sud degli Stati Uniti. Ecco, come funziona la formazione dei detectiti? La formazione dei detectiti è stata molto discusa e solo recentemente si è arrivata a una conclusione, diciamo, così chiara e comprensibile. Era chiaro che era da relazionare con un impatto, ma non si sapeva bene in che tipo di impatto, anche perché nei crateri che sono stati associati alle detectiti non ci sono tracce di meteorite. In realtà si sa, da recenti studi, che gli impatti sono dati da comete, cioè da corpi costituiti da ghiaccio, da acqua, allo stato solido, e quindi nessuna traccia rimane del meteorite che ha creato questo impatto. Il fatto che le comete siano costituite da acqua, che è un basso fondente, è anche alla fonte della spiegazione, perché un impatto di una cometa può dare grandi volumi detectiti, mentre la maggior parte degli impatti di meteorite, anche di dimensioni colossali, non danno assolutamente impattiti o a limite piccole gocce di vetri ai bordi del cratere. Mentre le vere e proprie detectiti, vedremo che di questi vetri, vetri di impatto e le presse del cratere, ci sono parecchi casi associati ai meteorite. Però le detectiti vere e proprie sono quelle che hanno viaggiato, hanno viaggiato per centinaia di chilometri, quindi hanno assunto una forma aerodinamica, anche se sono costituite da materiale terrestre. Quindi, come dicevamo, la cometa cade, crea un cratere, come se fosse un qualunque meteorite, però la presenza di acqua è responsabile di una fusione parziale della roccia terrestre. Questa roccia si fonde, viene sublimata, si crea un gas, si creano delle vere e proprie nubi di roccia vaporizzata, che vengono in qualche maniera spinte in una certa direzione, e dopo di che queste gocce di roccia fusa o di nubi sublimate di materiali che anteriormente costituivano la roccia del suo strato, si muovono in una certa direzione e poi cominciano questi oggetti a cadere, a ricadere all'interno dell'atmosfera, prendendo questa forma aerodinamica e vedremo che ci sono notevoli varietà di forme a seconda delle cadute. Nelle cadute più grosse, poi in realtà solo nella caduta delle australasite, che è la più grossa conosciuta, una gran parte del materiale sicuramente scappò all'atmosfera, perché le strutture di impatto fanno pensare che il tragitto all'interno dell'atmosfera sia stato molto lungo e quindi siano cadute da molto alto, quindi è possibile che buona parte di questo materiale sia scappato dall'atmosfera. Le caratteristiche principali delle tectite rispetto alle ossidiane sono innanzitutto hanno una composizione estremamente omogenea, mancano totalmente d'acqua perché gli altissimi punti di diffusione, la sublimazione del materiale fa perdere totalmente acqua, quindi nelle impattite l'acqua è quasi zero, non ci sono fenocristalli rispetto alle ossidiane che sempre ha grandi ingrandimenti, qualche micocristallo c'è sempre, e la composizione è in genere simile a quella delle rocce sedimentari. Allora, la composizione omogenea mi dice che in un campo di tectiti qualunque frammento che raccogliamo ha la stessa composizione, questo nelle lave più difficili da ottenere perché ci sono variazioni anche piccole all'interno della colata perché la camera magmatica in genere è zonata per alcuni elementi, quindi ci sono delle variazioni interne, mentre nelle australasite se compariamo un campione caduto in Australia con un campione caduto nelle Filippine che sono estremamente distanti, sono esattamente identici. La composizione è estremamente diversa, si tratta di una, mediamente a seconda dei casi, comunque una composizione che va da rocce sedimentari che fosse, mentre non ci sono molti silicati come nelle ossidiane che sono una lava reolitica con un altissimo contenuto di silice. Ecco, vediamo qui una comparativa di un'ossidiana che diciamo che parte da un peso in acqua di 0,2, mentre tutte le tectiti hanno dei valori molto basse, normalmente delle tectiti vere e proprie, vediamo che sono attorno ai 0,0,3 che sono queste in rosso, mentre queste in viola sono i vetri d'impatto, cioè quelle gocce che vedremo alla fine del capitolo che si formano nei pressi dei crateri per meteorite. Un pochino anomalo è Libyan Glass, perché come vedremo ha una struttura un po' diversa e questo è un impatto un po' differente a un'anomalia, un'anomala concentrazione d'acqua molto alta, però comunque siamo sempre sotto al livello dell'ossidiana. Ecco, da dove vengono i meteoriti e dove vengono le comete? La maggior parte dei meteoriti vengono dal cinturone degli asteroidi, che è una zona in cui ci deve essere un ipotetico pianeta che si è disintegrato, che sta fra Marte e Giove. Tutti questi frammenti di asteroidi sono destinati, se escono dalla loro traiettoria, ad andare verso il Sole, quindi possono cadere meteoriti di questa origine su Marte, sulla Terra, su Venere e su Mercurio. Nessuno di questi andrà in senso contrario alla gravità, quindi non cadranno su Giove. Al contrario, le comete stanno più o meno nella zona dove gira Plutone, che come sappiamo non è più un pianeta, stanno molto al di fuori del Sistema Solare e per arrivare alla Terra hanno compiuto un tragetto estremamente più grande, però anche queste, se escono dalla loro traiettoria, sono destinate a cominciare a girare con traiettori estrani finché a un certo punto alcune possono cascare sulla Terra. Quindi sulla Terra possono cadere oggetti di provenienza esterna rispetto alla gravità del Sole e possiamo avere dei meteoriti marziani, mai avremo un meteorito venusiano. Il meteorito marziano è un evento rarissimo, diciamo che un asteroide di provenienza normale cade su Marte e un frammento marziano viene lanciato fuori e prima o poi può raggiungere la Terra. Ecco, andiamo ad analizzare questi quattro gruppi di tectiti, cominciando da quelle più belle dal punto di vista gemologico. La Moldavite prende il nome dal fiume Moldau, che è un fiume che passa nei pressi di Cesca e Budovice nella Repubblica Ceca. Hanno delle forme varie, spesso a pera allungata o fatti con queste strane forme qui e questi solchi si formano per la rientrata nell'atmosfera, per la fusione, per attrito dell'aria contro le pareti della goccia del frammento. Quindi avremo scavati dei solchi su questa sferetta di vetro. La dimensione dei Moldavite è in genere piccola, stiamo parlando di corpi da 1 cm fino a 4-5 cm, raramente di più. E hanno forme più o meno fluidali, facendo capire che il materiale era plastico e fluido e associate a forme dovute all'attrito dell'atmosfera. Non è una gemma molto bella, si è tagliata perché è un vetro quindi non ha molta luce, però la storia è molto bella, è probabilmente quasi più interessante la storia delle Tectiti che non quella degli stessi Vittoriti, vengono da molto più lontano e hanno questa storia bella che dopo l'impatto hanno un'ulteriore storia di questo lancio di roccia fuse, secondo me molto affascinante. Comunque vengono tagliate molto e sono materiali altamente collezionabili, come si dice. Ecco, se andiamo a vedere in dettaglio, la Moldavite si trova, questa è la Repubblica Ceca, si trova in un paio di zone al sud della Repubblica Ceca, c'è anche un posto dove si trova in Austria e alcune sono state trovate nella parte più nord, in Germania, quindi non si sa bene se alcune di queste sono state rimaneggiate o sono temi che si discutono, però diciamo che questi nubi, questi schissi sono andati prevalentemente in questa direzione. Il cratere dell'impatto è stato individuato, è il cratere di Nordlingen che si trova qui, cioè il cratere si chiama Ries e sta nella città di Nordlingen. Il diametro del cratere è di 25 km, quindi per avere un'idea delle dimensioni dell'impatto e la distanza che hanno viaggiato queste Moldavite è fra i 250 e i 450 km, quindi diciamo che sono degli schissi che hanno una loro storia di attrito con l'atmosfera esattamente come possono avere i meteoriti che entrano nell'atmosfera. La datazione è 14,7 milioni d'anni. Questa è la città di Nordlingen che è stata costruita all'interno di questo cratere e chiaramente si può individuare la dimensione e la forma antica del cratere perché i bordi del cratere erano stati sfruttati per fortificare la città. Ecco, Libian Glass è la seconda tettite da taglio. È una tettite un po' anomala, infatti è costituita da blocchi abbastanza grossi, qui si possono raggiungere blocchi di alcuni chili, in cui si ha una bella patina di rifusione, ma abbastanza poche strutture tipo groove, cast, cioè questi canaletti, questi solchi sui bordi dovuti all'attrito con l'atmosfera. Può essere un materiale gemmoso da taglio, ma molti materiali, soprattutto quelli che si trovano più in prossimità del cratere, sono molto bollosi e opachi, mentre la moldavite è quasi sempre limpida. Ecco, la localizzazione è questa, questa è più o meno la distribuzione dei vetri, anche se i vetri si trovano un po' in tutto l'Egitto perché anticamente venivano usati per tagliare punti di freccia, eccetera, quindi c'era un commercio e venivano, frammenti venivano spostati, poi si perdevano, la gente moriva, si ammassava, quindi si possono trovare i blocchi un po' in giro che non si sa bene come ci sono arrivati. Comunque la grande densità di blocchi di Libyan Glass si trova in questa area e il cratere, perlomeno uno dei supposti crateri è probabilmente in questa zona. L'età è 26 milioni di anni e il diametro del cratere è 31 km, quindi un pelino più grande rispetto a quello della moldavite. La distanza raggiunta dal cratere dei frammenti è fino a 500 km. È famosa la Libyan Glass per essere stata usata, come dicevamo, nel Neolitico per scheggiare delle punte di freccia, ma anche dagli egizi come gemma, c'è il pettorale di Tutankhamon, c'è uno scarabeo fatto di Libyan Glass. Ecco, le bediasiti georgiaiti sono un materiale abbastanza raro che si trovano in queste zone nel sud degli Stati Uniti, una zona in Georgia e una zona nel Texas. Sono nere, anche se il è di buona qualità, è traslucido ed è limpido e sono abbastanza povere di solchi, quindi sono delle palline di vetro arrotondate con una bella patina. Sono l'età di 34 milioni di anni e il cratere probabilmente è la Baia di Chesapeake, che è una struttura molto grande che è stata riconosciuta come una struttura di impatto. Microtectiti si trovano anche molto lontano, però stiamo parlando di veramente microtectiti, sono cose submillimetriche. Il diametro del cratere in questo caso era molto grande, perché la Baia di Chesapeake è di 85 km di diametro, però è chiaro che essendo in mare è possibile che una parte del diametro sia secondario, quindi ci sono stime un po' a ribasso di diametro di questo cratere. La distanza comunque raggiunta è oltre i 2000 km, quindi hanno viaggiato moltissimo, anche se probabilmente non hanno viaggiato molto alto nell'atmosfera, perché le strutture di groove, di rientro, sono estremamente poche. Poi abbiamo detto quelle rarissime della costa d'Avorio, anche queste sono delle sferette nere, hanno un po' di groove, di solchi sulla superficie, questo è il cratere riconosciuto, il Bosum Crater di 10 km di diametro e a 350 km di distanza troviamo questa concentrazione delle tettite della costa d'Avorio. L'età è più giovane, un milione e cento mila anni. Come ho detto, la maggior parte di queste tettite erano conosciute dai carotaggi del fondo oceanico. Ecco, il gruppo più importante, più affascinante delle tettite e quello delle australesite, anche se non sono da taglio, non sono lavorabili, perché il vetro è molto scuro, anche se è di buonissima qualità, è molto pulito, limpido, però è scuro e non serve, però gli oggetti hanno forme talmente stravaganti che sono usatissimi anche in gioielleria. La composizione di questo vetro è risultata essere quella di una specifica roccia sedimentaria giurassica che si trova nella zona del sud della Cina e del Vietnam e quindi la provenienza, anche se non è stato individuato esattamente il cratere, è chiaramente da quella parte, anche perché le dimensioni di questi oggetti vanno aumentando in quella direzione e attorno alla zona si trovano dei blocchi di grandissime dimensioni di parecchi chili di peso, vengono chiamati buongong da una zona dove sono concentrati. Ecco, a seconda delle isole dove è stata trovata, perché è stata lanciata in mare e si trova a Java, a Luzo, nelle Filippine, eccetera, e in Australia, a seconda delle isole questi corpi venivano anticamente pensati essere cose diverse, avevano ognuno un nome, anche per se poi si è riconosciuto essere tutti della stessa età e riferibili allo stesso impatto. L'età è giovanissima, hanno 800.000 anni, quindi quando c'era già l'uomo di Java e quindi un evento recente, diciamo che la geologia, la deriva dei continenti, le isole, eccetera, erano quelle che vediamo oggi. Il cratere è probabilmente nella Baia del Tonchino, ma anche qui essendo sott'acqua e siamo ancora agli albori dell'individuazione esatta del cratere. Il diametro si aggira sui 40 km se è esatta l'interpretazione e la distanza, che questa è sicuramente giusta perché il cratere se non è in questo posto è da quelle parti, e supera i 6.000 km, quindi è una cosa incredibile. Ecco, questo evento deve essere stato qualcosa di veramente apocalittico, niente di paragonabile alla caduta di un meteorite, neppure al famoso meteorite che dovrebbe in teoria aver distinto i dinosauri, che come sappiamo è per il 90% una fizione di Hollywood, e questo evento sì, è stato qualcosa di veramente bestiale. Ecco, vediamo qui la zona dell'impatto, più o meno, insomma, anche se c'è questo dubbio, però sappiamo che per la scala a cui stiamo lavorando, che è la scala del pianeta, insomma, è qua. La distribuzione, questa è la distribuzione dove sono state trovate, evidentemente gran parte di questi dettiti sono caduti in mare, quindi in mare le informazioni sono abbastanza frammentari, mentre a terra sono molto abbondanti in tutte le isole dell'arcipelago indonesiano e sono abbastanza frequenti anche in Australia. Non so bene per quale motivo mancano i nuovi neri. Dalla parte, in direzione opposta alla provenienza della cometa, ci sono anche qui alcuni depositi, quindi questi fusi, questi vetri fusi, si sono distribuiti anche, diciamo, sopra corrente e sembra addirittura che ce ne siano alcuni verso il Nepal, però sono dati un po' dubbi. Le forme cambiano moltissimo a seconda dell'isola dove vengono trovate e della distanza dall'impatto. Vediamo che possono essere divisi in tre gruppi, le prossimali, che sono caratterizzate da grandi deformazioni in plastica, nel senso che sono più o meno come quelle delle moldaviti, a forma di gocce, cioè materiale fuso stirato e poi delle forme di impatto al suolo, facendo capire che sono cadute, che erano ancora dei frammenti fusi e quindi si sono spiattellate. Spesso, volando, si formavano queste code, ma anche se c'era scivolamento di materiale dalla parte frontale verso dietro si potevano creare queste cose bilobate, per cui la migrazione da sinistra verso destra creava una concentrazione nella parte posteriore, per cui a un certo punto il centro gravitativo si spostava e cominciavano a girare in maniera così irregolare. Anche dovute al viaggio nell'atmosfera sono queste forme concave, fatte così come a disco. Ecco, invece nei campioni distali, che sono i più interessanti, si cominciano a vedere delle fratturazioni per aver raggiunto alte temperature e sul lato posteriore, cioè questa è la direzione di movimento che attraversa l'atmosfera sulla parte frontale. si fonde, il materiale va verso dietro, le altre temperature che vengono raggiunte creano queste fratture che possono dare modo a delle specie di bombe a crosta di pane o a strutture varie con questi solchi nella parte posteriore. Ecco, queste strutture sono tutte strutture dovute al rientro nell'atmosfera. I campioni di queste mediali, per esempio le filippiniti, che sono queste le rizzaliti, che si trovano a una distanza già notevole, stiamo parlando di oggettini che possono raggiungere il chilo di dimensione, quindi ancora degli oggetti che hanno volato 1000-2000 km e che pesavano alcuni chili, anche se ce n'è di più piccole, le più grosse raggiungono alcuni chili. Invece quelle distali che si trovano in Australia hanno delle caratteristiche forme a bottone, sono in genere molto piccoli, sono del diametro di 1-2 cm, pesano pochi grammi, però hanno delle forme a disco molto belle e molto aerodinamiche, per cui si vede chiaramente una crosta nella parte frontale e un bel anello di scivolamento di materiale per fusione, per l'attrito con l'atmosfera. Ecco, questa mappa delle strutture ci fa capire un po' cosa è successo a queste gocce di vetro durante il viaggio. È possibile che siano state nell'atmosfera per parecchie ore, perché per attraversare tutto il pianeta, a 6000 km, non so esattamente la velocità che li potessero raggiungere, però parliamo di parecchie ore. E come abbiamo detto, una buona parte di questo materiale è sicuramente schizzato fuori dall'atmosfera terrestre. Ecco, vediamo che un altro gruppo che bisogna aggiungere sono le Muong Nong. Questa è una zona nel Laos, cioè molto vicino al Vietnam, dove si trovano questi blocchi di impattite, spiccolosa, abbastanza vescicolata, che denotano la vicinanza al cratere. Ecco, questi blocchi possono raggiungere anche decine di chili. Le prossimali, abbiamo detto, che si formano in questa maniera, sono delle sferette che poi si possono più o meno spessare, dare in forma delle gocce, e si formano come corpi plastici a bassa temperatura. Mentre tutte le mediali e le distali, vediamo questi gli anelli, sono gli anelli di deformazione, questa parte frontale si fonde e fanno questi anelli, un bordo di materiale rifuso. Ecco, qui un altro schema di tutte le morfologie delle tectiti, a seconda, se sono prossimali, mediane e distali, acquisiscono diverse forme. Quelle distali cadono fredde, per cui non hanno nessuna struttura di impatto, mentre quelle prossimali, che qui sono in giallo, partono più calde e possono avere degli splash, le strutture come la caduta di una cacca di vacca che si spiaccica al suolo. Quindi strutture con un fronte più o meno schiacciato dalla caduta, mi indicano che la caduta è avvenuta ancora a caldo e quindi siamo in zona prossimale. Ecco, questa è la ricostruzione dell'evento dell'Australasite che ha coperto il 20% della superficie terrestre e nonostante il disastro clamoroso che doveva essere stato, non ci sono evidenti estinzioni in quell'asso di tempo. L'adattazione è molto precisa, sappiamo che a 700.000 anni viveva l'uomo di Java e l'adattazione dell'evento dell'Australasite è 803.000 anni. Quindi in tutta quest'area, che sicuramente ha coperto di nubi e di cose strane tutta la Terra, però diciamo che per quasi metà della Terra c'è stata pioggia di vetro fuso, incendi e devastazione a livello planetario. Un tipo di eventi così grande a livello geologico non ne sono conosciuti altri, anche se ci sono dei livelli planetari dovuti a qualche eruzione importante o qualche caduta di meteorite importante che ha portato in giro per il pianeta corpi oggetti di queste dimensioni, forse è l'evento più grosso che si conosca. Ed è, come abbiamo detto, estremamente recente. Ecco, c'è un evento che si pensa che sia dovuto a qualcosa di simile e di cui si sa qualcosa di più, perché è stato quasi visto nel 1908 a Tunguska, che è una zona molto selvaggia nella taiga sovietica, ci fu un bagliore, una grande esplosione che fu vista a centinaia di chilometri di distanza e una devastazione totale per un'area immensa di alcune centinaia di chilometri quadrate. Ecco, qui si è cercato per anni il cratere e i frammenti di meteorite, il cratere probabilmente è stato trovato, comunque la direzione degli alberi caduti mi faceva capire, cioè, faceva capire più o meno esattamente dove fosse avvenuta l'esplosione, mentre sono stati raccolti i tronchi morti con la datazione esatta di quando erano stati bruciati e non sono state trovate assolutamente particelle relative a qualche corpo celeste. Quindi anche in questo caso si pensa che potesse essere stato un corpo celeste di tipo una cometa, di acqua, che non ha lasciato frammenti di rocce che possano essere studiati. Questo evento non ha creato i detectiti, quindi è possibilmente un evento molto piccolo, cioè una caduta di una cometa di piccolissime dimensioni, però la devastazione che ha creato ci può far dare un'idea di quello che potrebbe essere il panorama della caduta dell'outralasite. Ecco, altri vetri di impatto sono meno importanti, però con strutture molto simili, sono dei vetri fluidali, normalmente in blocchettini di piccole dimensioni, si formano appunto in maniera molto simile ai detectiti, però in maniera estremamente prossimale. Questi si formano in numerosi impatti di meteoriti e sono generalmente associati, si trovano concentrati in una piccola porzione del ring, del bordo del cratere. Quindi per esempio il Wabar Glass, che si trova in Arabia, in mezzo al deserto, è riferibile alla caduta dell'1 settembre 1704, sono tre piccoli crateri con il diametro di 11,64 metri e 116 metri e questi vetri si trovano in un lato di alcuni crateri a pochi metri di distanza dal bordo del cratere. Più abbondante è il Darwin Glass, che si trova in Tasmania, è una caduta con datazione molto simile a quella dell'outralasite, per cui alcuni pensano che potesse essere un pezzo dell'outralasite, in realtà qui sembra che non ci sia nessuna relazione. Il diametro del cratere è 1,2 km e si trovano a 2 km di distanza verso ovest. Anche questi sono dei vetri molto fluidali e abbastanza vescicolati di un materiale che ha viaggiato poco. Poi ci sono le Erghiziti, che sono anche queste gocciolini di vetro, che si trovano in Kazakhstan al bordo del cratere Zamanshin. La datazione di questi sono 900.000 anni. Il diametro del cratere è 14 km e hanno viaggiato per 500 metri verso est. Quindi questi sono molto simili ai Tektiti, con l'unica differenza che hanno viaggiato poco, sono eventi di proporzioni molto più piccole e anche queste però, come vediamo dalle datazioni, sono eventi recenti, perché come sappiamo i vetri sono poco stabili e quindi qualunque impatto più antico i vetri, soprattutto questi vescicolati, andrebbero distrutti. Le impattiti, al contrario, sono queste rocce che troviamo sul fondo del cratere, sono delle rocce che possono essere di due tipi, o che hanno un metamorfismo da impatto, alcuni hanno queste tipiche shutter cone che si sono sviluppate nella roccia base, cioè questi cune da pressione, e possono trovarsi qui mischiati alcuni minerali di alta temperatura, alta pressione, esclusivi delle impattiti, come la caoite, la coesite, la scetelerite, la maschelvinite, la reidite e la stisciovite. Coesite e stisciovite sono fasi di quarzo di altissima temperatura, per cui sono abbastanza comuni, perché il quarzo è onnipresente. Al contrario, la sue vite è una roccia fusa, quindi anche qui è parzialmente un vetro naturale, però è una roccia vescicolata, di composizione molto variabile, perché dipende dalle rocce che si erano fuse, è abbastanza brutta, quindi non è usata mai come materiale da taglio. Ecco, un altro vetro che abbiamo accenato all'inizio, che si forma per eventi naturali, è quello delle fulguriti. Le fulguriti si producono quando cade un fulmine al suolo e questo fulmine attraversa delle sabbie, in genere delle sabbie bagnate che facilitano la fusione della componente quarzosa e anche sono conduttive e quindi fanno attraversare il fulmine per parecchi metri all'interno del suolo. Ecco, al centro dove è passato il fulmine, la roccia viene sublimata a 30.000 gradi, quindi una temperatura bestiale, perché la fusione di una sabbia a 400 gradi già può sciogliersi, però questo è un evento talmente rapido che non dà tempo di sciogliere delle porzioni molto grandi, quindi sublima un tubino dentro queste sabbie e quindi attorno si crea un piccolo alone di roccia fusa. Ecco, le fulguriti si trovano virtualmente ovunque, questa è una fulgurita formata su un detrito basaltico in Oregon, in una zona dove si trovano alcune di queste fulguriti abbastanza rare e queste invece sono le tipiche del Sahara, queste vengono dal lago Chad in Niger e si è studiato che queste fulguriti sono relative a un determinato periodo storico in cui c'era un clima particolare per cui c'era una falda che impregnava una certa zona di dune e in mezzo a questa falda si scaricavano i fulmini e formavano i fulguriti. Queste fulguriti sono abbondantissime in questa zona e possono essere di parecchi metri, in genere sono materiali estremamente fragili per cui si trovano rotte, però sono state ricostruite alcune fulguriti fino a 10-12 metri. Ecco, questo è un materiale, più una curiosità, che è un vetro importante, però va ricordato per avere un quadro di quali sono le possibilità dei vetri naturali.